salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di videoproiettori e lo facciamo in compagnia di lui il fanflix questo proiettore che rientra in una categoria love cost perché comunque su amazon vi lascio qua sotto i link in descrizione riesce spesso con coupon sconto da inserire in pagina d'acquisto riesce ad arrivare anche fino a 140 euro ed è secondo me un rapporto qualità prezzo davvero davvero notevole ovviamente esistono anche proiettori più economici però con caratteristiche diverse qua abbiamo un prodotto che ci dà a secondo me al giusto prezzo delle prestazioni veramente interessanti e anche l'aspetto estetico il design la qualità dei materiali sono davvero notevoli per il prezzo con cui ci viene venduto devo dire che mi ha stupito veramente tanto ve lo garantisco un prodotto che per chi cerca un videoproiettore che non vuole spendere cifre assurde questo è tanta tanta roba veramente quindi ragazzi prima di parlare però delle sue caratteristiche e di vederlo in azione guardiamo cosa troviamo all'interno della confezione quando vi arriva a casa troviamo il cavo di alimentazione per collegarlo alla presa di corrente poi troviamo un cavo hd mi troviamo il suo telecomando per poterlo far funzionare perché tutte le funzioni le faremo da lui ci vogliono due pile tripla da inserire non incluse in dotazione poi troviamo il manuale di istruzioni con anche la lingua italiana ed infine troviamo lui il videoproiettore fanflix g1 è un proiettore ragazzi veramente veramente speciale secondo me un ottimo prodotto sia dal punto di vista del design che dei materiali che soprattutto per la qualità di riproduzione che ci viene data ed eccolo qua il nostro piccolo proiettore della fanflix ragazzi un prodotto secondo me bellissimo anche dal punto di vista estetico con questa maniglia in finta pelle marrone che davvero lo rende molto molto elegante le plastiche secondo me davvero buone per il tipo di proiettore che stiamo acquistando quindi nella sua fascia di prezzo poi con queste curve arrotondate devo dire che dal punto di vista estetico è davvero molto molto ben fatto qua dietro abbiamo l'altoparlante perché lui ha un'uscita audio ovviamente potremmo collegarci anche qualcosa di esterno come cuffie o un impianto esterno tramite il jack da tre e mezzo che troviamo qua dietro poi abbiamo sempre una porta usb per collegarci una chiavetta dove potremo caricare video foto file e documenti di word excel quindi roba di office o anche musica e poi la presa hdma e dove potremmo collegare qualsiasi tipo di dispositivo che noi vorremmo proiettare che sia una fire stick che sia un computer che sia una console cioè qualsiasi cosa e poi abbiamo la possibilità anche di una connessione airplay quindi potremmo condividere quello che sono i nostri file del nostro telefono che siano su ios che su android e potremmo tranquillamente condividerli senza collegare nessun cavo appunto utilizzando airplay che sfrutta la nostra rete domestica quindi abbiamo veramente tante possibilità di utilizzo il menu e l'interfaccia molto semplice per quanto riguarda l'utilizzo come vedremo dopo molto intuitivo da utilizzare mentre per quanto riguarda le sue caratteristiche proprio tecniche di proiettore abbiamo una luminosità da 9500 lumen e può arrivare a proiettare uno schermo da 300 pollici quindi circa 7 metri però ovviamente innanzitutto bisogna avere una parete di 7 metri e poi comunque 7 metri secondo me sono veramente ottimistici come punto di riferimento però in casa se arriviamo a 1,80 come vedremo dopo nel video ma anche 2 metri lui riesce tranquillamente a tenere una qualità molto molto alta a livello di definizione quindi davvero interessante questo aspetto delle dimensioni che possiamo raggiungere mantenendo una qualità di definizione che sia veramente valida poi qua sotto abbiamo anche l'attacco a vite quindi lo possiamo tranquillamente appoggiare perché c'è i suoi piedini in gomma su una superficie o nel caso collegarlo ad un cavalletto come farò io dopo quando vi farò vedere appunto come funziona che lo collegherò a un cavalletto tramite l'attacco a vite poi per quanto riguarda invece una caratteristica costruttiva interessante lui ha un'ottica totalmente sigillata quindi non può entrare assolutamente polvere appunto perché il suo motore ottico è totalmente sigillato per quanto riguarda il focus quindi la messa a fuoco perché in base appunto alla distanza che avrà lui da quello che è la parete o il pannello dove dovremmo proiettare va messo a fuoco lo faremo tranquillamente in maniera super semplice utilizzando il suo telecomando con il tasto F più F meno come vedremo dopo quando lo andremo a provare in due secondi avete messo a fuoco il proiettore appunto in base alla situazione dove l'avete messo quindi la distanza che avrà la parete o la superficie dove lui dovrà proiettare il telecomando è molto carino ben fatto elegante anche lui abbiamo tutti i tasti semplici che si intuiscono subito per quanto riguarda il suo funzionamento la casetta home il classico tasto su giù destra sinistra col tasto ok centrale e poi abbiamo il tasto per togliere il volume il tasto per alzare il volume quindi tutte le classiche operazioni che possiamo fare con i telecomandi moderni quindi detto questo dopo avervi spiegato tutte le sue caratteristiche dopo averlo visto appunto per quanto riguarda l'aspetto estetico è il suo design direi adesso di vederlo in azione che è la parte più importante per quanto riguarda un proiettore perché sì l'aspetto estetico ha comunque diciamo un interesse per quando lo si va ad acquistare ma adesso però dobbiamo vedere anche la sua resa nel proiettare su una superficie lo proietterò sul muro un muro bianco però il mio muro non è in gesso quindi non è liscissimo è in stabilitura quindi ha una granulosità appunto la parete però l'effetto secondo me appunto rimane comunque davvero notevole quindi immaginatevelo su una superficie liscia come il gesso o appunto un pannello per proiettare quindi detto tutto questo è arrivato il momento di testare lui il nostro proiettore fanflix andiamo allora ci siamo per testare lui il nostro proiettore love coast ma che secondo me ha caratteristiche e un risultato finale davvero molto molto interessante in questa posizione lui è una distanza dal muro di circa due metri e venti e questo ci dà la possibilità di avere una dimensione sul muro di un metro e ottanta lui come abbiamo detto nell'unboxing è in grado di arrivare fino a 300 pollici di dimensione dello schermo quindi 7 metri però ovviamente è molto molto teorica la cosa nel senso che sia a livello dimensioni ci arriva ma poi la qualità la definizione va per forza a perdersi perché comunque parliamo di un prodotto che rientra in una fascia di prezzo per proiettori love coast quindi per un utilizzo domestico però secondo me fino a questa dimensione ci arriva senza nessunissimo problema a livello di qualità anzi si può andare anche oltre però ovviamente i 7 metri sono veramente con un ottimismo incredibile ma questo ovviamente a noi non ci interessa 7 metri che ce ne facciamo a casa dove cacchio ce l'abbiamo una parete di 7 metri adesso spengo le luci e iniziamo a vedere appunto le sue prestazioni per quanto riguarda la definizione che poi è la cosa più interessante per quanto riguarda le connessioni abbiamo svariati tipi di connessione quindi abbiamo la possibilità dell'hdmi la possibilità dell'airplay sia per ios che per android la possibilità di connessione bluetooth e la possibilità di avere una connessione con chiavetta usb per queste funzioni quindi abbiamo davvero tante possibilità di connessione per l'hdmi potremmo utilizzare una fire stick come sto utilizzando in questo momento come vedremo tra poco possiamo utilizzare un qualsiasi dispositivo anche di console di gioco e giocare su queste dimensioni poi vi farò vedere appunto anche questa possibilità mentre per quanto riguarda l'airplay con un dispositivo ios o android quindi un telefono o anche un pc nel caso di un mac potremmo tranquillamente trasmettere dentro al nostro proiettore che poi invierà appunto l'immagine sul muro o su un pannello quello che abbiamo tutto senza avere nessuna connessione di cavi quindi comodissimo e poi abbiamo la nostra sempre amatissima usb dove potremmo andare a vedere film foto e ascoltare musica o file di office ovviamente in base a quello che avremmo caricato noi all'interno della nostra chiavetta usb quindi detto questo direi adesso di iniziare a testarlo quindi come vi ho detto nella presa hdmi abbiamo installato la file stick quindi adesso guardiamo come si vede quello che si può vedere a livello cinematografico da una file stick e quindi dai suoi provider che possono essere netflix disney o amazon prime o quel cacchio che vuole quindi guardiamo adesso abbiamo spento la luce quindi la risoluzione che vedete adesso è quella più perfetta per vedere appunto le immagini come abbiamo visto nell'unboxing lui ha un tasto qua che con un più e un meno che ci permette di mettere a fuoco ovviamente io adesso ho già messo a fuoco ma se dovesse andare a cliccare vedete posso andare a regolare il fuoco del nostro proiettore quindi veramente in maniera semplice ci andiamo ad ottimizzarlo perché in base alla distanza che avremmo dal muro dovremmo mettere a fuoco appunto quello che è la lente del nostro dispositivo di proiezione a questo punto abbiamo la possibilità di ascoltare l'audio direttamente da lui che come abbiamo detto anche nell'unboxing a delle altoparlanti incorporati o potremo collegarli un impianto audio separato perché comunque ha un'uscita jack allora io direi a questo punto di iniziare con l'hdmi allora sempre con il nostro telecomando che ci viene dato in detrazione possiamo muoverci vedete all'interno di quello che è la schermata home del nostro dispositivo quindi in base a quello che dovremmo utilizzare andremo a selezionare quindi io andrò a selezionare hdmi in questo caso vedete che andandoci sopra si ingrandisce vado a fare ok ed ecco che sono nella schermata per quanto riguarda la file stick in questo momento sono all'interno di disney plus quindi potremmo guardare il trailer dei guardiani della galassia che sicuramente per vedere la resa cinematografica è un film interessante quindi facciamo partire il trailer e ci gustiamo appunto su uno schermo di un metro e 80 come in questo caso questo il trailer vado alzare l'audio questo è l'audio che esce dal nostro dispositivo di proiezione direi che la qualità è notevole cioè si gusta davvero senza nessun problema anzi calcolate che il mio muro non è un muro liscio è stabilitura quindi è leggermente grezzo non è tipo gesso che è molto liscio un pannello di proiezione quindi da valutare anche questo perché nella definizione ovviamente avere dentro i granulini nel muro fa a togliere quello che è la definizione di proiezione dell'immagine però direi che vederlo in queste dimensioni e tanta tanta roba possiamo pure aumentare se abbiamo una parete abbastanza grande per andare a proiettarlo perfetto adesso direi di uscire da questo menù tornare al menu principale del nostro proiettore per provare anche le altre possibilità di connessione come abbiamo detto abbiamo la chiavetta usb quando è bianca vuol dire che è rilevata quindi facendo film andremo a vedere cosa c'è all'interno della nostra chiavetta ho caricato un video di un mio video di youtube giusto per farvi vedere che se io faccio così vedete che parte il video video che ho caricato su youtube quindi questo è il risultato poi se io esco da qua torno nella schermata home sempre con il suo telecomando posso andare su foto entrando sempre nella cartella della chiavetta vedete che posso andare a guardare le foto quindi le posso far scorrere col suo telecomando e il risultato secondo me è davvero notevole calcolate sempre appunto che il mio muro non è un muro liscio cliccando sempre con il tasto della casetta possiamo se abbiamo della musica io in questo momento non ce l'ho inserita ma nel caso ce l'avessi avuta entrando sempre nella cartella l'avrei vista e stessa cosa se avessi avuto dei documenti office cliccandoci sopra avrei visto qua i miei documenti di office poi proviamo adesso la connessione invece con airplay quindi questa connessione che ci permette di andare a trasmettere direttamente nel proiettore che poi proietterà su questo schermo o da uno smartphone o da un tablet o da un pc o mac in questo caso io lo farò con il mio macbook perché il telefono cioè l'iphone sta registrando in questo momento quindi non lo posso utilizzare per trasmettere ma il risultato è identico perché il tipo di connessione rimane praticamente lo stesso quindi adesso prendo il mio macbook ok adesso io qua il mio macbook se vado con il telecomando del proiettore a evidenziare ios cast seleziono ok vedete che ci spiega come connetterci ok in questo caso ci fa vedere l'iphone quindi fare il mirroring dell'iphone però la stessa cosa si può fare con un tablet o con un mac qua ci spiega appunto i passaggi la cosa importante è che siano connessi sia il proiettore che il dispositivo che deve trasmettere alla stessa rete ovviamente del domestica che abbiamo in casa perché sennò diventa impossibile la comunicazione quindi vedete sono connesso netgear 91 5g a questo punto io adesso entro nel menu del mio mac vado a fare duplica schermo vedete che ho bird cast 682 f che sarebbe poi questo ok quindi ci clicco sopra e vado ad attivare quello che è la airplay quindi dopo pochi secondi avrò il mio mac li trasmesso vedete sul su uno schermo gigante adesso ovviamente tutto quello che io farò all'interno del mio mac verrà trasmesso in quella posizione ovviamente si può collegare anche il mac direttamente col cavo hdmi senza nessun problema questa cosa per qualsiasi dispositivo che abbia riuscito hdmi ma questo è comodo se il proiettore è lontano da noi magari in una sala di riunioni piuttosto che allora non avrò più bisogno di collegare il cavo ma utilizzerò appunto l'airplay stessa cosa per lo smartphone con lo smartphone andrò a fare lo stesso tipo di connessione e avrò la possibilità di muovermi all'interno vedete di quello che è il mio mac su uno schermo veramente molto molto grande l'airplay ovviamente ha dei limiti maggiori che la connessione via cavo perché dipende molto anche dalla rete che abbiamo appunto in casa per quanto riguarda il trasporto dei dati soprattutto se quello che deve trasportare è una roba impegnativa mentre se dovessimo collegare il cavo hdmi questo sarebbe molto molto più semplice quindi abbiamo visto anche questa prova adesso vado a disattivare appunto quello che è la duplicazione schermo e sono tornato nel menu del mio proiettore adesso come ultima prova volevo farvi vedere la possibilità di collegare una console quindi adesso andrò a collegare la mia console in box e vi farò vedere il risultato anche con questa possibilità perché giocare su uno schermo così grande sicuramente ha il suo fascino soprattutto in alcuni giochi d'azione diventa davvero molto molto interessante ed emozionante quindi adesso metto via il mac e prendo la console ok torniamo nel menu ho collegato la mia is box serie x vado sempre su hdmi come vedete adesso l'ho selezionata gli do ok con il suo telecomando ed ecco che sono all'interno della mia is box vado a farne partire uno prendo il primo a caso che mi sono trovato lì e guardate che figata allucinante cioè siamo su uno schermo gigantesco si può ovviamente aumentare la dimensione come abbiamo detto però direi che già così il risultato è veramente notevole è veramente veramente spettacolare giocare su dimensioni di questo tipo comunque con un proiettore come abbiamo appena detto lo costa adesso non sto facendo niente perché tanto è solo una prova quanto riguarda le possibilità di utilizzo del gioco cioè veramente è straordinario è straordinario quindi ragazzi adesso torno nella home del nostro dispositivo sempre cliccando con la casetta ed eccoci che siamo tornati all'interno della nostra home accendiamo le luci ed eccoci qua ragazzi avete visto secondo me che risultati notevoli si possono ottenere al giorno d'oggi con un prodotto che comunque ha un prezzo veramente abbordabile perché comunque parliamo di un proiettore che con i coupon che amazon ci fa inserire in pagina d'acquisto spesso arriva a costare anche 140 euro quindi veramente un prezzo secondo me bassissimo per quello che ci viene dato per un dispositivo di questo livello ci tengo a sostenere che io non ho il muro liscio stabilitura quindi è granulosa ma il risultato secondo me merita comunque davvero tanto poi se uno volesse si compra un telo di quelle apposta per proiettare migliora sicuramente la definizione perché rimanendo molto liscio è migliore ancora definizione ossia poi uno al muro in gesso ha già il muro liscio in quella situazione e poi comunque dipende anche da dove uno deve posizionare il proiettore perché comunque per posizionarlo e avere un risultato grande dobbiamo avere anche una parete libera che ci permetta appunto di proiettarlo mentre se mettiamo un telo quello lo possiamo mettere dove vogliamo perché ovviamente è indipendente e ha dei cavalletti che lo tengono sospeso quindi lo si può mettere dove vuole quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione per quanto riguarda questo proiettore love coaster di cui vi lascio qua sotto il link in descrizione vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove portate novità anteprime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale sempre serviva ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove possa tantissimo cupo sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial o una novità come questa ciao e al prossimo video